Finire le priorità e politiche per lo sviluppo economico e produttivo negli ambiti regionali di Piemonte e Liguria è la finalità dell'incontro organizzato da Confindustria Piemonte del Nord-Ovest, un'occasione di confronto e dibattito sull'economia e il territorio in un'ottica di macro-regione. A introdurre i lavori il Presidente di Confindustria Piemonte Fabio Ravanelli. Il bilancio è estremamente positivo, i parlamentari coinvolti sono dimostrati interessati e hanno fatto interventi importanti proprio a rilevare come questi due temi che abbiamo toccato oggi, quindi il tema delle grandi infrastrutture e il tema dell'industria 4.0 con particolare attenzione alla formazione, siano temi assolutamente centrali e nell'agenda di tutti. Presenta anche il Segretario Generale di Confindustria Piemonte. La cosa più positiva che ho recepito è che c'è volontà di ascolto, sembrava che ci fosse un po' di crisi nel rapporto anche nel dialogo tra le forze politiche e il sistema Confindustria e il mondo delle imprese, invece anche il numero dei parlamentari venuti, gli interventi che hanno fatto, diciamo che appartengono a tutto l'arco parlamentare, hanno dimostrato che c'è voglia di ascoltare e voglia di ascoltare da soggetti che hanno la competenza per poter suggerire le misure migliori per lo sviluppo economico e del territorio. Il Governatore del Piemonte, Alberto Cirio, ha condiviso le indicazioni espresse da Confindustria durante l'incontro. Adesso la TAVA ha raggiunto l'irreversibilità e quindi questo è un dato positivo, però noi sull'Asticunio non possiamo più aspettare neanche un giorno. Io sono costretto mercoledì ad andare a Bruxelles per avere quelle risposte che da Roma non riesco ad avere perché da Roma non si capisce ancora se il progetto di realizzazione dell'Asticunio sarà quello targato PD e quindi quello del Rio oppure quello dei 5 Stelle targato Toninelli e uno deve andare a capirlo a Bruxelles per capire come orientare quelle che sono le proprie strategie anche di gestione della nostra regione. All'incontro è intervenuto anche Giuseppe Zampini, presidente Confindustria Liguria. Sono stati toccati alcuni punti, peraltro già toccati nel passato, la novità sulle risorse per la digitalizzazione, questo è un punto molto significativo. L'azienda di cui oggi sono presidente ha esperienze in questo. Per poter applicare la nuova Industria 4.0 non abbiamo portato i laureati al 38%, 45% di diplomati, la parte restante non diplomata e questo è uno dei punti fondamentali. Non è solo richiamare gli laureati dall'esterno ma sviluppare una nuova categoria, non trascurando le discipline umanistiche. È fondamentale assieme alla tecnica mettere le discipline umanistiche. Si è parlato ovviamente anche di temi di grande attualità, infrastrutture, quindi non poteva mancare anche un accenno e un approfondimento alla gronda. Qual è la situazione attuale? Dobbiamo assolutamente partire con la gronda, infatti c'è stato un accenno da parte del rappresentante dell'ingegneria Porta raccontato, su cui non mi trovo perfettamente d'accordo, dicevo se la gronda fosse stata presente non si sarebbe potuto fare questo. No, abbiamo bisogno del ponte e abbiamo bisogno della gronda perché la viabilità va traguardata non a oggi ma fra vent'anni. Fra vent'anni proprio per la necessità di tutti i percorsi verso il nord di cui parliamo abbiamo necessità anche della gronda per connettere, per collegare meglio l'Ovest con l'Est o l'Est con l'Ovest, viabilità cittadina. È fondamentale partire.